Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di GeneticDNA e a questo quinto appuntamento con Dead Space 3 Un appuntamento un po' cortino perchè sono un po' distrutto dopo la mia giornata in moto, quindi Sono le boe, è mezzanotte, quindi facciamo un gameplay veloce veloce, cagliamoci addosso veloce veloce Bene, quindi, non mi ricordo dove ho lasciato il nostro caro amico Isaac Vediamo Eccoci qua, ah si è vero Quindi raccattiamo un po' di Roma Bene, sbagliamo già subito il tasto Ok, qua c'è tutto, tra da da Vediamo un po' se c'è in giro qualcosa da poter prendere Cazzo, cazzo No T'apposto Boh Bene Vaffanculo, andiamo Vediamo cosa ci aspetta L'ascensore Taci troia Eh, sì sì Eh, bravo eh Cazzo c'è mo' Aiuto E apriti che schifo che schifo porca troia allora immagino che l'ho preso finalmente facca la puttana vabbè ma che cazzo ohia porca troia e qua boom bim 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 merda e cazzo che cazzo oh bene ahia porca troia ma che cazzo è ma eccoti lì figlio di bacca come sei e qua stupido coso con tre teste e tira fuori quel cosi che li mozzo faccia di micchia oh ah sto morendo pam pam patatim pam pam eee bella sera ma che cazzo e che bella musica poing chi è buah pussa via pussa via pussa via necro porco come mi è stato suggerito il necro cazzo il necro cazzo detto anche necro porco dove sei ti sento sai a tutti qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua bu 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 va pan culo figlio di tua madre anche tu vieni qua che mera di merda che cazzo porca puttana non duri a crepare sti figli oddio eccolo lì no fermati orca troia fermati ma che cazzo oh bene bene ora pussa via per cosa schifoso beh schifo che cazzo ma che è ah fermo vai fermo porca puttana aia ma puoi stare fermo porco di i il culo fino a usci in l'aria quel faccia di merda questi uscilli cazzo questi uscilli la madonna fa il culo oh che cazzo di bordello vabbè quindi andiamo dobbiamo raggiungere non lo so cosa scendiamo scendiamo nel tombino il tombino scuro ecco non so che cazzo è sta cosa vabbè tut 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 ah ehi figo bello mi piace boing è come un boomerang è come un boomerang torna qui vabbè vabbè ehh no perchè devono essere tutti bui questi posti andiamo su ho sbagliato il caricamento tutta sera paapa sunflower vieni qua vieni qua vieni qua cuore кими tutti prendono la zampa pinch andiamo a impizzare qualcuno ripa chi è? ho impizzato con la zampa del tuo amico coglione necro porco cazzo nec se ti vergogni a chiedere indicazioni segui la posizione senti adesso arrivo lì e ti spacco la testa cazzo mi rompi fai calmo oh niente che cazzo è sto cosa? eh? ma che cazzo è? ping 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 dico ping 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 no perché non va? eh cazzo eh porca troia ping ma va ping bello lo scopo? ah attivare l'ascensore attivare l'ascensore bene ora andiamo nella stanza dell'ameraglio eccoci eccoci qua ehi ciao che ci fai tu qui sopra? eccoci qua guarda che si incrucia oh mio dio è lì sono carver siamo nell'alloggio dell'amiraglio Isaac spegnila eh Isaac spegnila carver che sta succedendo? spegnila ed io cazzo è partito spegnila spegnila è andato male è andato fuori è andato fuori la chiave per cosa? una specie di dispositivo alieno un macchinario probabilmente pensavo che fosse quello controlla il macchio la chiave oh mio voleva disattivarlo ma scritto dappertutto come fosse un mantra o delle istruzioni questo è proprio quello che stavamo cercando ahè non è un pianeta qualsiasi Isaac hanno trovato l'origine il pianeta natale del macchio andiamo che stronzata è questa? che culo raduniamoci nella sala di comando così potremo pensare al da farsi oh cazzo no no io non mi raduno da nessuna parte quindi vaffanculo adesso io resto qui bene ragazzi io resto qui vediamo un po' se trovo qualcosa da fare qui allora ascoltiamo questo messaggio bene ce ne frega il cazzo qui ok prendiamo un po' di roba non voglio andare via quindi ora rimango qua a fare boom non so che cazzo faccio qui ma fa niente quindi il gameplay finisce in questa stanza e poi ehi tu capi no cos'è boom pam oh cazzo la testa ciao testa dell'ammiraglio ehi guardate c'è la testa dell'ammiraglio hai perso la testa ammiraglio ciao poi ti spacco la testa che schifo sono sadico avevo trovato un manufatto che bello poi dove hai il posto yeah no non voglio bene ragazzi e ragazze questo gameplay ve lo interrompo qua perché sono veramente cotto quindi il prossimo gameplay lo farò un po' più lungo per compensare dai ciao ciao a tutti da GeneticDNA e al prossimo gameplay grazie